Un saluto da Ivan di Paco Digit, oggi proviamo il nuovo Samsung Galaxy Y-Duos, quello che in codice è chiamato S6102 così riusciamo a identificarlo meglio. L'Y-Duos è la versione dual sim del Y che abbiamo già provato qualche settimana fa sempre qui su queste nostre pagine, quindi un telefono appartenente alla prima fascia del mercato ma che in questo caso ha questo plus non indifferente di avere la possibilità di allorgiare contemporaneamente due sim all'interno del telefono. Il telefono come dicevo appartiene alla fascia economica del mercato, il prezzo dovrebbe essere sotto ai 200 euro. Desidero ringraziare a proposito la Stockhouse di Corso Sempione a Milano che ci ha messo a disposizione, ripeto in anteprima, questo telefono per la prova. L'Y-Duos ha anche qualche piccola modifica che direi migliorativa rispetto all'Y normale, mi riferisco in particolare alla dimensione del display. Siamo passati da un 3 pollici a un 3,14 pollici quindi siamo quasi a 3 e 2, sembra un'inezia ma migliora moltissimo la disponibilità di spazio soprattutto quando si deve digitare dei testi, dei messaggi in particolare. Le dimensioni del telefono sono circa 110 in altezza, 60 mm in larghezza, 12 mm e lo spessore. Peso piuttosto ridotto stiamo parlando di 109 grammi quindi un telefono estremamente portatile. Come dicevo display da 3,14 pollici e un TFT a 256.000 colori ma direi molto bello, non gli manca assolutamente niente. La risoluzione è 240x320 pixel quindi siamo un po' a una risoluzione basica, una quarter VGA che però non ci crea nessun tipo di problema. Ripeto, bisogna considerare in questi telefoni qualche compromesso qua e là ma non è niente male veramente questo display. Nella parte superiore, capsula auricolare, i sensori di prossimità non è presente invece il sensore di luminosità. Nella parte bassa troviamo appunto questa scritta DUOS che ci sta ad identificare che il telefono appartiene alla famiglia dei telefoni DUOS di Samsung che sta diventando sempre più ricca e fornita perché c'è anche in altri modelli della gamma Galaxy la possibilità di avere le dual sim, tasto centrale che è sostanzialmente il tasto home, il tasto di ritorno e il tasto con il menu contestuale del telefono. Nella parte destra troviamo solo il tasto di accensione del telefono, nella parte bassa una presa micro USB, nella parte di sinistra abbiamo il tasto per il controllo del volume, parte superiore con jack da 3,5 mm e un piccolo solco per aprire il cover posteriore. Il cover posteriore che è stato anche qui un pochino modificato rispetto a quello del Galaxy Y normale e direi modificato molto in meglio. La superficie adesso è gommata, meno sensibile alle editate. Ho avuto modo di provare del Galaxy Y mono sim sia la versione nera lucida che quella col cover grigio. Quella col cover grigio diciamo che forse un filino meno bella esteticamente ma più resistente allo sporco e alle editate, quella nera lucido veramente molto bella da vedere ma quasi inutilizzabile per quanto riguarda il raccoglimento dello sporco, ma andrebbe pulita in continuazione. Fotocamera da 3,2 megapixel provvista di autofocus e di flash, fotocamera che permette di girare il video anch'essi in qualità quarter VGA quindi 320x240 pixel a 24 frame al secondo. Senza andare troppo nel dettaglio direi che la fotocamera permette di eseguire scatti decenti in condizioni ottimali di luce appena sufficienti quando le condizioni di luce diventano scarse. Il telefono naturalmente gira su Android in versione Gingerbread 2.3.6 in questo caso accompagnato dalla solita interfaccia TouchWiz di Samsung che può essere completamente personalizzata nel numero di pagine a nostra disposizione, personalizzata con widget, collegamenti, con tutte quelle cose che oramai conosciamo più o meno a memoria direi su tutti i telefoni Android. Il menu anche qui non fa eccezione, troviamo sostanzialmente tutti i programmi che Google precarica sul sistema operativo con qualche piccola personalizzazione di Samsung tipo Social Hub che ci permette di aggregare tutte le variazioni dei nostri social network o della messaggistica, un file manager, un lettore di news, il Polaris Viewer che è un visualizzatore di pacchetto Office e poi sono presenti tutti gli altri programmi tipici di Android. Abbiamo la possibilità di gestire naturalmente la doppia SIM su questo telefono, funzione che trovo estremamente comoda. L'interfaccia è la stessa, la parte telefonica è la stessa dei telefoni Samsung. Interessante sarà vedere che scorrendo la tendina delle notifiche troveremo questa doppia icona che Samsung ha aggiunto nell'interfaccia che ci permetterà di switchare tra una SIM e l'altra, quindi il numero in uscita sarà quello che avremo attivo. Le chiamate verranno effettuate con il numero che abbiamo scelto. Ci sarà poi anche la possibilità di, entrando nelle impostazioni, di dire quale delle due SIM deve utilizzare i dati per la navigazione. È chiaro che la SIM 1 utilizza le antenne UMTS, quindi avremo una velocità di navigazione nettamente superiore e la SIM 2 invece soltanto il GPR-S. La parte telefonica direi che va piuttosto bene, direi che siamo assolutamente nella media per quanto riguarda la capacità di dialogo del telefono con le antenne, un filino sotto la media, almeno in questo esemplare, la capsula auricolare che mi sembra un pochino rimbombante e metallica per quello che riguarda la qualità, assolutamente valida per quanto riguarda il volume, non c'è nessun tipo di problematica. Vediamo un attimo internet. Eccolo qui il telefono, avevamo già aperto prima la pagina, la nostra pagina. Come si può vedere qui si vede qualche piccolo difetto dovuto alla scarsa risoluzione del display, cioè vediamo una porzione di pagina piuttosto piccola. Detto questo, considerando l'hardware del telefono del quale mi sono dimenticato di parlare, ma adesso rimediamo subito, direi che va piuttosto bene anche il browser, direi molto bene considerando il tipo di telefono. Non gira la versione full di Flash Player, quindi quando ci sarà presenza di video il telefono aprirà direttamente il programma di YouTube quando il video sarà adesso collegato. Dicevo, ho dimenticato prima di fare due parole, di dire due parole per quanto riguarda l'hardware. Il telefono è mosso da un processore da 832 MHz, quindi un processore piuttosto reattivo, il sistema si muove piuttosto bene, la RAM disponibile è di 290 MB, la memoria interna è di 160 MB a disposizione dell'utente. La memoria è naturalmente espandibile tramite un supporto micro SD. Sono presenti ovviamente le antenne Bluetooth e Wi-Fi che oramai sono diventate una sorta di standard anche su telefoni di prima fascia. Dicevo del browser che secondo me per la fascia di mercato del telefono è veramente molto valido, non c'è nessun problema nella navigazione, direi che non ci sono ritardi, funziona piuttosto bene anche il Pins to Zoom, quindi direi che va piuttosto bene la navigazione internet di questo telefono. Che cos'altro si può aggiungere? Rispetto al Galaxy Y normale le variazioni sono appunto come detto un paio, la dimensione del display e naturalmente la presenza della doppia SIM. Io penso che questo telefono possa avere sicuramente delle buone chance di affermarsi sul mercato. Il prezzo è a par mio piuttosto allettante, il telefono è anche piuttosto gradevole estetivamente e come dico direi quasi sempre quando provo terminali Android così ben ottimizzati funziona veramente molto bene. In questo caso non ci sono neanche incertezze che nell'Y normale avevo trovato intanto qualche rallentamento e secondo me la dimensione del display seppur livellamente più piccola andava a inficiare un pochino la qualità dell'utilizzo quotidiano del dispositivo. Qui la situazione mi sembra davvero nettamente migliorata. Vediamo se c'è qualcos'altro che si può aggiungere per quanto riguarda programmi precaricati. No, come dicevo ci sono le classiche applicazioni che vengono caricate sui terminali Android. Bene, direi che ci possiamo fermare qui per questo assaggio del nuovo Galaxy Y Duos, telefono che come vi dicevo c'è messo a disposizione da Stockhouse di Milano, negozio prossimo il quale potrete potrete già acquistare il telefono di cui stiamo parlando. Un saluto da Ivan di Makodigit e alla prossima.